La fede nuziale è un rituale che deriva sin dagli antichi egizi. Loro credevano che la fede messa nel dito anulare della mano sinistra fosse fondamentale in quanto da quel dito partiva un'arteria, la cosiddetta vena moris, che risalendo dal braccio arrivava fino al cuore. La fede messa nel dito anulare della mano sinistra fosse fondamentale. La fede messa nel dito anulare della mano sinistra fosse fondamentale. La fede messa nel dito anulare della mano sinistra fosse fondamentale. La fede messa nel dito anulare della mano sinistra fosse fondamentale. La fede messa nel dito anulare della mano sinistra fosse fondamentale. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti